Terzo premio con voti 141, il re di denari, la canzone cantata da Nada. Signore e signori, facciamo un applauso per Nada, che si classifica terza. Ecco qua, la terza classificata, Nada, che l'anno scorso, ricorderete, si è classificata prima, quindi quest'anno si riconferma come una vera diva, è ancora, pensate, la più giovane del festival, ancora la più giovane del festival. Nada, ci vuoi dire esattamente quanti anni hai adesso? Adesso ce n'ho 18. 18 anni, compirai, dunque mi pare tu sei nata a novembre, se non sbaglio. Sono nata a novembre. A novembre, a novembre quanti anni compi? A novembre prossimo? Sì, prossimo novembre, quanti anni fai? 19. 19, 19 anni, avete visto per l'emozione, nemmeno lei riesce a fare i conti. Allora, sarai contenta di essere arrivata terza, immagino, no? Io sono felicissima, perché veramente non me l'aspettavo. E allora io ringrazio tutti quelli che hanno votato per me e grazie. Ecco, più di così non può dire perché è emozionata. Allora, Nada, io in questo momento non ho in mano il programma, allora dobbiamo invitare il tuo direttore d'orchestra. Chi è che dirigeva la tua canzone? Ruggero Cini. Ruggero Cini, che è salito sul podio. Gli autori della tua canzone, chi sono? Migliacci Mattone. Migliacci Mattone, perciò anche per loro dobbiamo fare un bel applauso. E allora affidiamo a Nada l'interpretazione della canzone terza classificata, il Re di Danari. Forza Nada. Non cerco un re di denari, io cerco un fante di cuori. A chi mi offre dei fiori, tutto il mio cuore darò. La vita è un giorno, rischia le calme, ride chi vince, chi perde e piange. Ma la partita è solo una, nella vita ci vuole fortuna, una rivincita non ci sarà. La vita è un giorno, rischia le calme, ride chi vince. La vita è un giorno, rischia le calme, ride chi vince. E chi perde e piace, se vuole il sole, nasce la luna. Nella vita ci vuole fortuna, io la fortuna l'ho avuta con te.